Situazione dei porti in Abruzzo. A fare il punto è il sottosegretario alla presidenza della Giunta Umberto D'Annunti. Stingenti risorse per Vasto, Pescara, Ortona e Giulianova. Per il porto di Vasto la regione accelera e dopo aver reperito le risorse ha convocato la conferenza dei servizi preliminare per il 4 agosto. Un progetto importante da ben 12 milioni di euro e si attende anche la classificazione del porto di Vasto dopo gli emendamenti presentati in Senato dal governatore Marco Marsilio. L'obiettivo è trasformare il porto di Punta Penna in un riferimento dell'Adriatico. C'è un finanziamento da 12 milioni di euro che questa Giunta regionale ha reperito recuperando e rimodulando delle risorse per fare in modo che il porto di Vasto possa diventare un porto importante all'interno della viabilità e dello sviluppo delle merci del mare Adriatico. Insieme a queste risorse ci sono anche le risorse ZES che ammontano 8 milioni e 650 mila euro che prevedono sia l'ampiamento e la messa in sicurezza del porto e anche il collegamento con la viabilità attraverso una rotatoria che verrà realizzata per poter migliorare meglio l'accesso all'interno del porto. Inoltre ci sono i 25 milioni del contratto di servizio con RFI che serviranno per rendere il porto di Vasto funzionale e collegato con le ferrovie. Anche per il porto di Pescara ci sono risorse. Ieri in giunta intanto è stato approvato un provvedimento per l'attuazione del progetto di viazione del porto canale di Pescara, ricompreso nel programma Masterplan e approvato dalla regione per il quale è il soggetto attuatore l'Arap. Pescara e Ortona sono due porti molto importanti di rilevanza nazionale e risorse ingenti per diversi tipi di lavori. Ci sono quindi anche per Ortona e per Giulianova che è il più piccolo per dimensioni rispetto agli altri ma che potrà avere importanti benefici e miglioramenti. Sia per Ortona che per Pescara ci sono degli ingenti risorsi che si stanno mettendo a regime e quindi interventi che stanno per essere calanderizzati. Inoltre, oltre alle risorse in esse, siamo riusciti ad ottenere attraverso un'interlocuzione con il Ministero ulteriori risorse sia per Pescara che per Ortona. 21 milioni per Pescara e 30 milioni per Ortona. Anche su Giulianova la Regione Abruzzo ha destinato 3 milioni e 800 mila euro per la messa in sicurezza e il prolungamento del Molo Nord e la messa in sicurezza in Molo Sud. Per quanto riguarda il Molo Nord siamo in attesa del collaudo del primo intervento da parte del Providorato Europeo Repubblico. Una volta avuto il collaudo procederemo con la progettazione che già abbiamo ma soprattutto con la gara per quanto riguarda il prolungamento del braccio. Successivamente interverremo sul Molo Sud per fare in modo che si possano mettere in sicurezza le situazioni in essere.